Buongiorno e benvenuti per questa mattinata che sarà un po' a zonzo tra la letteratura la scienza ma anche il divertimento, un divertimento che però ha molto a che fare con la professionalità perché abbiamo il piacere di avere questa mattina uno dei più grandi make up artist che siano conosciuti che è Nico Baggio, il nome già dice moltissimo, buongiorno, benvenuto qui, ha truccato le donne più belle del mondo lo ha fatto nelle sfilate internazionali dei marchi più conosciuti, non so adesso ne possiamo citare moltissimi lo ha fatto per dei set cinematografici che poi sono diventati cult insomma una vita che è stata un po' a zonzo per il mondo tra donne bellissime e una sfida sempre nuova perché l'abbiamo invitato perché si apre per lui una nuova avventura in Cina ed è per questo che la trasmissione di questa mattina si chiama make up internazionale intanto una presentazione così veloce per far capire qual è l'argomento del giorno diciamo è vero ho truccato le donne di tutto il mondo, le più belle del mondo però devo dire che dopo tutto sto girare forse voi italiani veramente siete imbattibili siete veramente il numero uno perché la bellezza delle italiane è dentro cioè io ho visto in Cina per esempio queste donne, sono delle donne bellissime, un miliardo e mezzo di persone figuriamoci, ci sono poi queste donne un po' mischiate con le asiatiche, con le vietnamite ho truccato delle donne per esempio della parte del nord della Cina però hanno un limite, sono un po' tutte uguali, hanno tutti gli occhi scuri, i capelli scuri, il viso quadrato tu pensa invece all'italiana che è una cosa incredibile e poi il fascino e il carisma diciamo magari ci mancano un po' le altezze di magari qualche bellezza nordica o il fascino magari dell'abbronzatura di qualche altro stile però anche le italiane sono multietniche, sono un prodotto multietnico sostanzialmente sicuramente allora dicevamo questa cosa della Cina che è molto interessante l'ha detto lei in questo istante immaginiamo una bellezza cinese che è quasi un'icona sostanzialmente uguale a se stessa e anche la tradizione del trucco in questi paesi è proprio molto collegata a uno stereotipo di bellezza come è intervenuto, perché l'hanno chiamata e che cosa intende fare? allora è successa una cosa di questo genere, questa grossa compagnia intanto è una multinazionale, dentro c'è anche il governo cinese infatti ha avuto una cena proprio con i membri del governo cinese che hanno voluto conoscermi e praticamente loro vogliono produrre in Italia perché i made in Italy, nonostante in Italia le cose non vadano poi alla grande, su certe cose siamo bravissimi in fatto di bellezza credo che siamo veramente primi al mondo basta pensare alla bellezza nell'arte, nella moda, nel food e via dicendo e allora questi sono arrivati a contatto con questa ditta di Milano che è una grossa azienda che produce per i grandi marchi non solo europei ma anche americani non facciamo i nomi ovviamente e hanno scelto di fare la produzione avevano bisogno di un make up artist che gli segliesse il prodotto un po' il packaging, l'immagine e così via e abbiamo iniziato questa collaborazione la cosa incredibile è che io per loro ho scelto 27 prodotti cioè fra ombretti, fard, terre e il primo ordine era pari a un milione di pezzi per prodotto ma è tutto fuori misura ovviamente in questo paese e tra l'altro l'accoglienza che ha avuto è stata strepitosa da quello che vi ha raccontato sì, sì, perché a parte così l'ospitalità eccezionale e tutto quanto ma pensi che il primo incontro è stato di farmi andare a Pechino per farmi fare un ritratto con la più famosa, più importante fotografa della Cina di cui lei si recupererà appunto dell'immagine io invece da parte diciamo tecnica e artistica del prodotto e poi queste feste, queste serate perché loro stanno costruendo secondo me una cosa importantissima ho visto un'organizzazione eccezionale solo l'area ricerca di ogni azienda aveva 40-50 giovani che del mattino alla sera erano al computer solo per fare ricerca perché quando parliamo di trucco e di bellezza parliamo anche di tecnologia, di nanotecnologie c'è tutta l'avanguardia della scienza che si applica a una cosa che interessa a tutto il mondo uomini e donne ormai certo, ma anche perché diciamo oggi c'è un'offerta strepitosa nel mondo oggi credo che l'unica cosa che non manca è il prodotto oggi una donna che decide di rimanere brutta è proprio perché ce la mette tutta secondo me ma però vedo che anche tutti i grandi nomi le grandi griff poi arriviamo ad avere un prodotto che è tutto molto simile oggi non c'è più la grande differenza oggi produciamo un po' tutti sugli stessi laboratori facciamo tutti la stessa ricerca e poi vedi che la differenza la fa soprattutto il packaging e soprattutto la fa la pubblicità oggi le vie di comunicazione per uno che produce moda o cosmetica o make up vedi che sono due le strade o fai la pubblicità o scegli il professionale e in Cina hanno capito che modernamente oggi è molto importante oltre alla pubblicità avere qualcuno che insegna ma non soltanto alle donne ma ai capiare, ai direttori, a tutti quanti che cos'è il make up, come si usa tra l'altro stiamo vedendo delle immagini di alcune selezioni di immagini, di trucco proprio fatto da lei su alcune donne molto belle diciamo che ha truccato anche delle modelle famosissime so che lei è molto riservata così però insomma avendo frequentato tutte le passarelle internazionali perché non me lo possiamo fare beh, ha truccato delle modelle eccezionali io mi ricordo quando un giorno per esempio a una sfilata di Versace io truccavo Iman Coppola la pettinava Gianni Versace ci dava le direttive quelle cose che rimangono un po' indimenticabili uno scatto cinematografico nella sua mente poi avendo fatto per 5 anni il Festival del Cinema di Venezia ho avuto modo di incontrare anche molte star del cinema ci sono state delle modelle molto antipatiche molto difficili non facciamo nomi magari a me piacerebbe però tanto lo so che non glieli estirpo no, ma ci sono state invece delle modelle veramente che oltre ad essere molto belle erano anche molto così affabili, molto simpatiche la donna più facile da truccare che ha trovato più bella è, più facile è, è vero o no? non è vero, non è così vero e non è sempre quella che ti dà grandi soddisfazioni la donna più bella è difficile però mi ricordo con molto affetto una modella svedese che si chiamava Vendela è stata per molti anni testimonia di Elisabeth Harden che con cui devo dire che ho ancora un bel ricordo perché era veramente bella invece com'è, qual è la cosa più difficile da rendere in un trucco? ma la cosa più difficile è che io dico sempre quando si trucca una donna anche una donna stessa quando decide di abbellirsi non ti puoi soffermare solo all'aspetto del viso ma è molto importante oggi capire il total look cercare di leggere nell'insieme questa persona di non andare oltre io dico sempre ci sono delle donne che più le trucchi più diventano belle ci sono delle donne che gli metti il mascara e un gloss hai già messo troppo avere questa sensibilità questo gusto di sapersi fermare di non eccedere è un po' come nella moda tante volte vediamo delle donne che spendono tanto e sono vestite malissimo molte donne mi fermano per strada e mi dicono ma come sono truccate? io dico vai in bagno lavati la faccia vedrai che avrai molto più successo grazie soddisfazione da parte di queste donne no perché è l'eccesso e purtroppo il make up è una cosa incredibile io sostengo che se una donna una sera vuole uscire vuole apparire veramente bella vuole sedure vuole piacere basta che vada in bagno muove un po' i capelli fa un make up attento e questo può farle a meno di poi di mettersi vestiti accessori gioielli profumi è un lavoro che ti dà un risultato immediato immediatamente puoi cambiare puoi trasformarti puoi diventare più dolce più seducente più sensuale però è divertente il fatto che appunto pure avendo girato il mondo continuando a girare il mondo avendo avuto esperienze nel cinema nella televisione nel teatro un po' in tutti i campi dell'arte lei anche ha ancora questa passione questa voglia di comunicare la bellezza alle ragazze a chi voglia diventare bella anche attraverso questi corsi a cui ha dato un titolo interessante le forme della bellezza sì sì perché mi sembrava così riduttivo dire corso di trucco o corso di make up perché ogni bellezza ha la sua forma io provengo molto dal mondo dello spettacolo dal mondo dell'arte ho avuto questi grandi incontri in passato che mi hanno formato la forma della bellezza perché tante volte capisci che non è mettere insieme tante cose cioè l'errore che succede spesso quando una donna che si trucca è che mette addosso tante cose aspettando aspettandosi un risultato invece non è così facciamo un esempio molte ragazze giovani amano fare un trucco molto minimalista perché poi sono già belle di suo ma qual è il segreto adesso per esempio per questa stagione qua io trovo che una ragazza giovane che vuole veramente avere un aspetto nuovo diverso basta che faccia un bel incarnato cioè una bella pelle possibilmente chiara chiara quindi per questa è la tendenza di questa di quest'autunno inverno quindi abbiamo finito con le abbronzature anche invernali incarnato chiaro un rossetto molto scuro sulle labbra e un mascara sulle ciglia è più che sufficiente ti dà una carica un fascino uno stile incredibile non serve niente a volte mettere ombretti fard perché quell'insieme quel caricare toglie fascino toglie freschezza e diventa appunto qualche cosa di ed è un po' in linea con il momento quindi sostanzialmente la sobrietà però anche la decisione certo perché bisogna avere degli obiettivi ben chiari nella vita sicuramente ecco per esempio l'ha parlato lei di ragazze di ragazze giovani così che sono sempre alle prese con delle sfide nuove perché fuori dall'università hanno di fronte un mondo e devono proporsi e piacere subito ed essere c'è molta competizione tra i giovani anche il trucco anche come ci si presenta che ne so a un colloquio di lavoro o di fronte a una possibile esperienza di lavoro è molto importante che non sempre siamo un veglione o siamo una festa insomma è importantissimo io dico sempre che la bellezza è un sogno ma è anche potere se tu piaci se tu ti senti bella se tu cerchi di tirar fuori il fascino il carisma è una grande chance è molto importante una donna che si trascura poi ci sono sai quelle che dicono ah io ormai che si arrendono troppo facilmente non bisogna arrendersi dobbiamo tutti i giorni combattere per essere quantomeno dico più affascinanti più seducenti più piacevoli assolutamente poi ormai è talmente allungata la vita e le prospettive che una persona può avere e poi sempre fuori casa non ci si può più permettere poi c'è un grande distinguo fra il trucco da giorno e il trucco da sera per esempio per questa stagione per quest'autunno e inverno ci sono proprio queste due cose completamente diverse uno è il trucco da giorno che è un po' il nude look il nude make up che è un trucco che sembra acqua e sapone ma è tutt'altro che acqua e sapone difatti tornano un po' anche le ciprie questo effetto un po' morbido torna? sì ecco anche qui molte case cosmetiche per esempio adesso puntano sul prodotto col minerale tutti questi prodotti che vediamo con la scritta con i minerali e così via che sono molto delicati sono molto trasparenti danno molta luminosità alla pelle però bisogna sempre decidere quando una donna decide di abbellirsi la prima cosa devi imparare a guardarsi allo specchio e quella è la cosa più difficile secondo me sostanzialmente il primo passaggio è il più difficile deve fare un po' di autocritica devi guardarsi allo specchio e deve dire ma io quali sono le cose belle quali sono le cose meno belle devo fare un make up da giorno devo fare un make up da sera voglio puntare sullo sguardo perché oggi dobbiamo sicuramente scegliere no se punto molto sullo sguardo il resto del viso lo devo un po' abbandonare devo fare un make up correttivo allora se faccio un make up correttivo non devo usare ombretti perlati non devo usare niente di perlato tutto deve essere rigorosamente mat se ho un viso che è stanco che non è più giovanissimo dovrò puntare a un make up dove devo soltanto rinfrescare il viso devo dimenticare il mondo della moda delle modelle della pubblicità io dico fatevi prendere per mano da un make up artist da un bravo parrucchiere da una brava estetista e fatevi un po' guidare perché è difficile da sole arrivare a scegliere poi la strada giusta dicevamo del trucco da sera non l'ho abbandonato questo argomento anche perché ci siamo avvicinando alle feste quindi sostanzialmente credo che in molte prenderanno ispirazione da questa trasmissione qual è la tendenza diciamo per portarci un po' in clima notturno e festivo la parola d'ordine per questo autunno e inverno è mat cosa significa mat significa opaco è una regola indiscutibile per da qualche anno a questa parte vedevamo le modelle vedevamo anche molte signore vedevamo molti personaggi della televisione con questo effetto shining questa pelle lucida questi gloss i gloss mettevamo persino il gloss sotto gli zigomi per enfatizzare ancora di più questo effetto shining adesso è tornato il matt io lo adoro il matt perché il matt è quello che ti dà la possibilità intanto di correggere ma soprattutto il trucco matt ti fa sentire meno truccata il matt poi non nasce oggi nasce ancora negli anni 90 negli anni 90 quando nasce la donna manager no? che vestiva con questi in maniera molto maschile io ve lo ricordo purtroppo cioè io mi ricordo che una volta uscivo dalle sfilate di Milano e dei giornalisti mi fermano e mi dicono ma quella è la grande novità la più grande novità che sono spariti i tacchi avevano tolto i tacchi dalle scarpe avevano vestito le donne in maniera maschile molte portavano anche la cravata e il profumo maschile assolutamente questo trucco matt degli anni 90 è ritornato con grande interesse e allora per questo ottuno inverno prima regola matt seconda regola ci si ispira un po' agli anni 60 anche nella moda e così anche nel make up quindi qualcosa di eccessivo c'è sì ma uno dice ma come erano gli anni 60 uno pensa a questi grandi parruconi non era solo all'eyeliner voglio dire all'eyeliner bravo l'eyeliner negli anni 60 è molto importante ma soprattutto la cosa fondamentale nel trucco degli anni 60 era il trucco degli occhi le donne degli anni 60 le dive mettevano due tre ombretti sugli occhi usavano le ciglia artificiali e l'eyeliner con la classica virgola all'insù non è più così quindi bisogna un po' imparare a usare le ciglia finte anche o no? ah vanno benissimo oggi tutte le modelle tutti i personaggi della televisione se andiamo a vedere bene da vicino usano le ciglia artificiali che non servono per infoltire le proprie ma servono per dare allo sguardo più intensità più intensità e allora il make up trend per questo autunno-inverno per queste serate è lo smoking eyes che lo usiamo già da qualche anno questo occhio scuro ombroso questi sguardi profondi io dico indimenticabili tante volte però non più col nero ma con i colori smoking eyes colorato cioè blu viola verde ma io ricordo una trousse di ombretti di mia madre degli anni 60 che era bellissima sembrava la tavolozza di un pittore pastelli azzurri verdi quindi quella andrebbe bene tipo? sì però cosa abbiamo fatto? io ultimamente cerco di andare oltre dopo tutte queste esperienze cerco di andare oltre anche con la ricerca abbiamo fatto per esempio abbiamo puntato molto sull'eyeliner in gel questo eyeliner che solitamente lo immaginiamo che serve solo per fare questa righina nera o colorata l'abbiamo fatto in gel e cosa serve questo eyeliner? serve proprio per andare a riempire tutta la palpebra tutta la parte mobile della palpebra viene applicata proprio con le dita in maniera un po' vintage applichi questo eyeliner in gel e dopo di che sopra questa eyeliner vai applicare l'ombretto ecco che diventano questi sguardi che davvero ti cambiano la faccia perché oggi la gente ha voglia veramente che quando decide di fare un intervento di avere successo di farsi notare basta con queste robine vorrei dove gli leggi in faccia che c'è tanta paura tanta timidezza no se decido di truccarmi devo dare un risultato che bello insomma mi sembra una bella tendenza quella che arriva però stupenda decisa in cui le donne fanno un altro passo avanti in questa società stupenda io ripeto lei che ha sempre lavorato tra le donne si si meritano di più queste donne sicuramente io gli darei vi darei in mano tutto io dico sempre che la stampa la televisione meno politica è un po' di più bellezza e soprattutto più spazio alle donne però diciamo che quando finiscono nelle sue mani c'è mani maschili essere comunque viste guardate con un occhio maschile è sempre importante ecco si conta molto la gran parte dei truccatori sono solitamente maschi tra virgolette eh beh insomma specie maschile ma perché secondo me non è che siamo più bravi delle donne è che interpretiamo una donna con gli occhi di un uomo cioè se faccio una bocca non non la dipingo ma cerco di su quella bocca di dare anche la freschezza quel sex appeal che piace tanto agli uomini tante volte le donne si truccano troppo dimenticano che devono piacere agli uomini e questo è molto importante quando torna in Cina? a gennaio ma andrò su e giù chissà quante volte ma soprattutto perché queste forme della bellezza andrò là proprio per insegnare che cos'è il make up che cos'è la bellezza europea che cos'è il gusto italiano che per loro è molto importante e come tutti gli italiani si lascerà un po' contagiare anche dal fascino orientale che a caso mai porterà qualcosa anche qui? ma non so vedremo 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 è stato un gran piacere averla questa mattina con noi in bocca al lupo per questa nuova esperienza e insomma credo che potremo rimanere a parlare di bellezza moltissimo con lei però il tempo sempre tiranno qui in televisione grazie e arrivederci alla prossima novità grazie e tra pochissimo ci occupiamo di un personaggio importante per la letteratura italiana che è partito da Mogliano Veneto cento anni fa parliamo di Giuseppe Berto si celebra il centenario tra pochissimo grazie a tutti